Buongiorno e grazie di essere qui con noi. Abbiamo qui con noi la città di Milano in sue varie rappresentazioni e la città metropolitana. In una giornata particolare, perché c'è stato un convegno che parla, che crea i contenuti per la città metropolitana, è un convegno che ha a che fare moltissimo con questa settimana, una settimana in cui abbiamo avuto l'apertura con la giornata mondiale dell'ambiente, 5 giugno, oggi giornata mondiale degli oceani, e che va a confluire qui a Bologna in un fine settimana un po' particolare, il G7 dell'ambiente. Un po' particolare perché in seguito alle dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti d'America ci sarà un ripensamento dopo gli accordi di Parigi e quindi abbiamo a che fare con un punto interrogativo sulla questione che sta a cuore a tutti ormai del cambiamento climatico. sta a cuore a tutti da sempre perché è un problema globale, a cuore a tutti perché inizia a essere fenomeno conosciuto oggi. Allora, una città metropolitana, che è un modello nuovo che sta nascendo in Italia, che è nato due anni fa, mi sembra di ricordare, 2014. Come approccia, che ruolo ha sia da un punto di vista dell'amministrazione, abbiamo qui la vice sindaca di Milano, sia da un punto di vista della mobilità all'interno di una città che è tra i principali creatori di un impatto sul clima e anche di un impatto sulla salute e sulla vita quotidiana e sulla qualità di vita del muoversi all'interno della città e che cosa significa questo per l'ambiente da un punto di vista di ambiente non solo della città ma di tutto quello che va a portare sulla nazione e sul globo. Allora, per seguire un ordine di risposta, vi lascio, siamo liberi di rispondere in qualsivoglia ordine, però partirei dall'ambiente, da come questo viene visto all'interno di una città metropolitana. La prima cosa è che l'ambiente non è un problema, cioè il tema dell'ambiente non si può risolvere da soli, quindi è un tema che invita la solidarietà e la città metropolitana, le città metropolitane sono una rappresentazione di solidarietà tra un comune capoluogo e un'area urbana e periurbana che rappresenta diversi mercati del lavoro, diverse economie, diversi modi dell'abitare. Quindi se noi vogliamo interpretare il benessere in una società che ha nella mobilità e nella trasferibilità e anche nella connettività la propria ragione, noi dobbiamo considerare un'area che non può essere quella di una via, di un quartiere, ma deve essere quella di un'area più ampia, perché lì si realizzano le politiche. Quindi si parte dal concetto di sistema. Esatto. Di sistema perché poi in Italia in particolare, adesso stiamo parlando di Milano che è una delle metropolitane italiane, ma in Italia in particolare le città sono in un ambiente agreste, cioè basta anche da Milano percorrere qualche chilometro per ritrovarsi tra i campi e quindi si parla non solo oggi di smart city ma anche di smart farming, di intelligent farming e quant'altro. In un sistema così complesso qual è un'area metropolitana? Una città come Milano, che è la metropoli italiana ed anche la metropoli che ha parlato nel 2015 al mondo di sostenibilità dall'Expo in poi. Come sta affrontando e qual è la centralità dell'ambiente in una città così? Beh, intanto, una cosa che pochi sanno è che Milano, Milano è una città metropolitana, quindi Milano ha i suoi 134 comuni, i suoi 3 milioni e 800 mila abitanti, è la seconda area agricola d'Italia. Questa è una cosa che non tutti sanno. La sua parte protetta a verde agricolo, noi abbiamo un parco che unisce 61 comuni che si chiama Parco Agricolo sul Milano che è protetto per l'agricoltura e le aree ambientalmente protette sono forse l'area verde più grande d'Europa per le città metropolitane. Questa è una cosa che pochi sanno. Quindi questa idea che ci sia una relazione tra la produttività, la ricchezza, la forza, la competitività, la produzione, l'intelligenza e quanto attiene invece alla sopravvivenza e alla produzione delle cose essenziali, unità alla qualità delle cose che vengono prodotte, alla capacità di vendere, alla capacità di anche lavorarle, è un tema che attiene tanto all'ambiente e alla qualità del vivere perché le persone capiscono che c'è una relazione tra il loro stile di vita, quello che fanno, come si occupano di rifiuti, di evitare lo spreco, di evitare di buttare via le cose, di spegnere la luce quando escono, di chiudere l'acqua quando si lavano i denti. Sono cose che riguardano la vita di tutti e le città metropolitane sono l'occasione per trasformare un accordo come quello che oggi abbiamo firmato, molto importante tra tutte le città metropolitane d'Italia, in atteggiamenti e comportamenti individuali. Quindi sensibilizzazione dell'individuo, del cittadino che diviene la città stessa, quindi la città vive solo grazie al suo cittadino che è l'attore primo del cambiamento e quindi della lotta in questo caso al cambiamento climatico. Poi è evidente che le amministrazioni pubbliche devono avere un comportamento corretto, definito, dare risposte veloci nei tempi giusti, effettuare seri e verificati controlli, cioè essere elemento di garanzia e di miglioramento, quindi investire risorse per creare educazione ma per creare anche le condizioni perché ci siano i luoghi e i modi in cui esercitare queste nuove politiche. Quindi è un rapporto di reciprocità che credo possa produrre nel reciproco riconoscimento, nella fiducia e nella valorizzazione del rapporto con le amministrazioni locali. Le città metropolitane sono a servizio e lavorano insieme agli amministratori locali. La città metropolitana ha 134 comuni, 134 sindaci, 134 comunità in grado di costruire insieme una buona risposta. Quindi la città metropolitana nasce come concertazione, come alleanza, come sistema, dicevamo prima, per connettersi tutti, a proposito di connessione verso un migliore approccio alla gestione della risorsa naturale e della città stessa. Risorsa naturale è città dove però devo muovermi in qualche modo e di nuovo mobilità significa non solo utilizzare un solo mezzo pubblico, ma riuscire l'intermodalità di cui si parla tanto, dell'intermobilità, in che modo si riesce a far comunicare tra di loro trasportatori o le infrastrutture che ci sono dietro in una città complessa, non più come solo a questo punto che già di suo è complessa in Milano, ma una città metropolitana fatta di 134 comuni. Allora, l'assessore Marco Granelli del Comune di Milano non è qua perché oggi è in discussione, approvazione finale, proprio l'ultima giornata di approvazione per l'adozione del piano urbano di mobilità sostenibile, che è lo strumento con il quale si disegna la mobilità del futuro e vengono messe a sistema tutta una serie di iniziative che sono funzionali a permettere una mobilità più sostenibile, più connessa, più interconnessa, quindi dare un servizio migliore al cittadino in modo tale che possa scegliere qual è la modalità di trasporto migliore e quando il servizio funziona bene, il servizio di trasporto pubblico è definitivamente il migliore anche per il suo benessere, la sua salute, la sua convenienza economica, eccetera. Un dato banalissimo, quando si usa il mezzo privato metà del tempo lo si spende cercando il parcheggio che non è sicuramente un tempo molto utile e quindi già solo provare a connettere le nuove tecnologie che verranno sperimentate anche a Milano di smart parking, quindi della ricerca intelligente del proprio posto auto è già una cosa che verrà realizzata a breve proprio per aiutare anche in questo percorso. Questo sul fronte della mobilità privata ma ovviamente il trasporto pubblico che è potenziato, noi stiamo costruendo la metropolitana, una linea nuova di metropolitana che ovviamente ha degli impatti molto importanti sulla città in questo momento perché i cantieri sicuramente non sono vissuti in maniera felice dagli abitanti, dai commercianti, però è un sacrificio di qualche anno che nel lungo termine porterà sicuramente una prosperità e un benessere molto superiore ai sacrifici che stiamo facendo oggi come città. Poi ci sono le biciclette, quindi la mobilità leggera e poi soprattutto convincere e informare il cittadino di quali sono i vantaggi non solo nell'immediato nel proprio trasporto fisico del giornaliero, ma quelli che sono per la collettività e quelli per il pianeta complessivamente. Ed è un'operazione ovviamente difficile quella della sensibilizzazione e del coinvolgimento appunto dei cittadini. Allora, stiamo parlando di tecnologie innovative che vanno a servizio della città, quindi non solo usare di meno l'automobile, ma quando la devo usare utilizzare i nuovi strumenti anche del digitale che creano quello del concetto di Smart City. Tornando sempre a Gloria per un passaggio interessante, perché tu vieni dall'esperienza Expo, un po' tutta Milano viene dall'esperienza Expo e Milano è cambiata dopo l'Expo. Però mi riconnetto a questo perché mi ricollego a questo perché si parlava prima, ce lo dicevi, del fatto che Milano è un centro agricolo, o meglio, che l'area intorno a Milano ha una produzione agricola molto importante, quindi cibo, agricoltura e mobilità in un'area così poco vista quale agricola che può divenire, e oggi siamo, non ce lo scordiamo, a Bologna, ci siamo incontrando a Bologna perché è un modello che è replicabile. Quindi la domanda si estende e vuole essere un passaggio da che significa vedere tutto insieme, perché oggi si parla di economia circolare, di sistema, del vedere tutto insieme, del riusare, quindi partire da come un'agricoltura che è anche urban farming, che è un qualcosa su cui Milano sta investendo e tutte le città, le Smart City stanno investendo, andando in quella direzione, insieme all'agricoltura che la circonda e insieme alla mobilità, per poi prendere questo modello e replicarlo a Bologna o, perché no, a Berlino, a San Francisco, quindi un'internazionalizzazione dei modelli o che cosa possiamo noi apprendere dagli altri modelli. Una domanda un po' aperta e libera da cui vorrei da ogni parte una parola. Se posso dire, secondo me la città metropolitana nasce per questo, perché nel 2014 si decide di fare le città metropolitane. Intanto perché le grandi aree metropolitane si sono dotate di un governo di area bassa, perché alcune scelte attengono alla pianificazione strategica, al piano territoriale, a stabilire cosa si fa e dove si fa, se si fa e se non si fa. Io credo che questo sia un passaggio fondamentale per mettere a sistema una serie di ricchezze, che sono quelle che ha detto lei e che noi possiamo vedere tutti i giorni, valorizzarle, preservarle, sostenerle e farle entrare in un circuito. Una visione strategica in cui le cose non solo si tengono, ma alla fine producono un vantaggio per tutti. La vera grande scommessa, secondo me, è insieme ai gol che Expo ci ha lasciato dal punto di vista della diminuzione dello spreco, della giusta distribuzione delle risorse alimentari e dell'acqua, insomma in un equilibrio molto forte sulla sostenibilità del mondo. Ci ha lasciato anche l'idea che dobbiamo provare in un'area che compete oggettivamente Milano, la sua città metropolitana, un'area molto forte dal punto di vista economico, dal punto di vista della competitività, cercare di tenere un equilibrio per migliorare il benessere di tutti. Allora, quando si dice fare un'operazione di crescita che è economia ecologica, benessere ecologico, vuol dire avere l'idea che l'economia circolare riguarda anche le persone, anche coloro che stanno meno bene e l'obiettivo è quello di accrescere il benessere complessivo. È una bella scommessa, ma è secondo me, se consideriamo che il 60% delle persone oggi vive dentro i contesti metropolitani e urbani, se riusciamo a risolvere questa contraddizione utilizzando lo schema della sostenibilità, del rispetto ambientale, della crescita sostenibile e del miglioramento della vita di tutti, insomma facciamo un bel cambiamento. Sì, mi aggancio perché le sue parole mi fanno venire in mente l'ultima esperienza che ha portato a casa, diciamo, Expo e che è stata un'esperienza di interesse ambientale perché è uno degli elementi dell'economia circolare, quello che si chiama riuso, quindi permettere di non consumare nuove risorse per avere nuovi prodotti e eliminando quelli vecchi, ma di far vivere più a lungo quelli che abbiamo già prodotto. A questo scopo Expo aveva chiuso i battenti al 31 ottobre del 2015, aveva una serie di beni mobili che le sono rimaste, dalle banchine alle cucine dei cluster, alle spillette con scritto volontari, le divise non utilizzate, quindi non usate in questo caso, dei nostri field operator, dei volontari, i gadget anche di lusso che avevamo come beni di rappresentanza e tutta questa montagna di beni, veramente una montagna, i libri, le pubblicazioni che abbiamo avuto, l'abbiamo destinata o alla vendita dove ci fosse un mercato che potesse avere interesse ad acquisirlo, perché ovviamente il primo interesse è anche preservare le risorse economiche di una società pubblica come Expo e dove questo invece non è stato possibile insieme a Fondazione Triulza, che è una fondazione nata proprio per gestire una cascina all'interno del sito e che ha raccolto una sessantina di associazioni che hanno lavorato moltissimo nel semestre, bene con loro abbiamo fatto un bando, anzi in realtà erano cinque bandi che hanno messo appunto a disposizione del paese di tutte le realtà italiane, che fossero enti pubblici o organizzazioni del terzo settore che fossero interessate le varie tipologie di bene, abbiamo avuto una risposta incredibile 250 lotti, cioè il raggruppamento di questi beni, abbiamo ricevuto 3.501 domande ammissibili, quindi un lavorone enorme per la gestione anche amministrativa di queste richieste e la cosa importante è che la ricaduta, noi abbiamo avuto tutte le organizzazioni del terzo settore stracontente di avere anche degli oggetti che apparentemente noi potevamo ritenere del tutto secondari o a scarsissimo valore, ma il fatto che questo bene sia stato a loro donato e abbia potuto essere reinventato per un ulteriore uso, ne faccio un esempio, le cucine dei classi sono andate in moltissime associazioni della protezione civile o a parrocchie eccetera e tutti quanti le protezioni civile sono andati in Umbria nel periodo del terremoto, quindi hanno moltiplicato l'utilizzo di queste cucine. Una è andata a Napoli in uno dei quartieri più disagiati, fragili ed è diventata parte di una cucina e di un centro per la distribuzione del cibo a soggetti a rischio o deboli e le borse quelle in tela con scritto volontari sono state mandate in Africa, anzi andranno quest'estate in realtà, in Africa per diventare cartelle dei bambini delle scuole dove alcune ONG lavorano stabilmente, quindi ciascuno si è reinventato degli usi a tutti questi beni che ne moltiplicano l'utilizzo temporalmente e portando del benessere, quindi anche questo è stato un'azione che ha portato un risultato per l'ambiente e anche per la società. E' anche un cambio culturale. Io non lo sapevo. Lo so, non lo so ancora nessuno. Cioè bisogna raccontare questa cosa perché è bellissimo. Perché poi sono... Io non lo sapevo. Lo so, l'abbiamo fatto un po' in sordina. Ma raccontata. Tra l'altro è un'esperienza che credo a livello nazionale è la più grande, forse in termini di dimensioni e di numero dei beni. In termini europei le Olimpiadi di Londra hanno fatto una cosa simile, ma è molto più facile vendere un bene con la firma di un grande atleta che non la spilletta con la V di volontari per intenderci. Eppure ci siamo riusciti e abbiamo raccolto tutte queste esperienze di economia circolare, quelle legate all'economia circolate provate all'interno dell'esposizione universale in una pubblicazione col Ministero dell'Ambiente che in tutto il semestre ci ha supportato molto in termini di approccio metodologico. abbiamo fatto dei progetti insieme anche di stimolo e anche questa pubblicazione appunto raccoglie tutti questi elementi per la loro trasferibilità. Ovviamente sapendo che la trasferibilità è un qualcosa che deve essere adattata alle varie situazioni, non può essere preso, copiato perché questo purtroppo non funziona quasi mai. Come suggerimento dell'esterno che già avete fatto sicuramente, ma c'è un cambiamento culturale forte che questo genera. Poi si parlava prima di come il cittadino, l'individuo che vive questo cambia l'approccio all'uso delle risorse. E poi a proposito delle risorse, per tornare un attimo all'area ambiente, l'area ambiente che oggi ha una rilevanza talmente tanto centrale perché non è solo come l'ambientalismo degli anni 80-90, protezione e quant'altro, ma è addirittura centro di profitto perché oggi verde o blu conviene. È al centro, l'abbiamo visto questi giorni con tutte le corporate che partecipano, che spesso innovano e sono più attente di quanto tanta pubblica amministrazione, non in questo caso, ma altra dovrebbe essere. Quindi come l'area ambiente divenne addirittura il motore, il volano attrattivo centrale in una città metropolitana, quella di Milano e quella che possiamo replicare in tante altre aree? Allora, diciamo che l'area ambiente dovrebbe essere baricentrica, nel senso che in realtà nella pubblica amministrazione permane una cultura molto più pianificatoria e centralizzata da quel punto di vista, quindi il territorio non è la parte dell'ambiente ma è la parte della costruzione. In realtà se si applicasse le norme sul non consumo di suolo e sul riutilizzo di quello che hai costruito, l'ambiente diventa una struttura che ha attenzione ai materiali, al riciclo eccetera. Quali sono i problemi? Perché tutte queste esperienze devono diventare culturali e si agisce su cambiamenti di comportamento che durano tempo. Pensiamo alla legge sul fatto di non fumare, quanto ci ha messo a diventare uno strumento, tanto che persino i fumatori, se qualcuno fuma in un ristorante gli dà noia, perché non siamo più abituati. Allora, io credo che ci siano delle parole chiave che il governo sta cercando di sviluppare. La prima è la semplificazione, la dematerializzazione e l'innovazione. Senza queste tre cose su cui si basa la pubblica amministrazione, noi potremo fare delle bellissime esperienze che però non diventano sistema. Per cui se noi riusciamo a sviluppare lo smart working, quindi la capacità di lavoro a distanza con un'idea di conciliazione tra lavoro e vita, non fra donne e vita, donne e famiglie, no, fra lavoro e vita. Quindi rimettere al centro lo stare bene delle persone, quindi non il lavoro per la fabbrichetta, 23 ore al giorno e il quarto lavoro da controllare. Ma il tempo per consumare, il tempo per divertirsi, il tempo per star bene, quindi l'uomo nella sua accezione più completa, umanisticamente più completa, allora quello sviluppo lì diventa uno sviluppo che rientra nella vita delle persone. Cioè l'ottica del sacrificio non è un'ottica su cui si vince. Cioè non è che io sono bravo e sono ecologicamente bravo perché mi sbatto un casino per prendere la metropolitana. Io devo avere una metropolitana accessibile perché mi è più conveniente prendere la metropolitana. Perché in metropolitana c'è l'aria condizionata, perché in metropolitana non soffro come una bestia, perché è tutto molto più comodo. Perché secondo me, e ne parlavo con lei, la sfida su Milano è una sfida sulla customizzazione, cioè non è sullo standard, ma è su il servizio per quel cittadino. Cioè quindi la sfida è su una maggior diversificazione perché i cittadini di un'area metropolitana devono esprimere diversità. Cioè l'appiattimento sull'uguaglianza è una comodità per la pubblica amministrazione, ma non è una sfida, soprattutto quando l'innalzamento della vita lavorativa, l'innalzamento della permanenza sul posto di lavoro ti obbligano a fare i conti con alcune patologie piuttosto che alcune cose che prima non avevi. Quindi è necessità di ripensare i servizi, è necessità di ripensare i tempi, è necessità di fare un sacco di cose. E secondo me Milano deve vincere sull'innovazione, ma non l'innovazione tecnologica, l'innovazione di pensiero. Non solo tecnologica, ma la servita è la base. Anche se, se mi permettete, questo vuol dire fare una scommessa e un investimento gigantesco perché oggi la dimensione dei servizi, per esempio, di trasporto pubblico della città di Milano, intendendo il capoluogo, è eccellente. La dimensione del trasporto pubblico della città metropolitana, cioè degli altri 133 comuni, ha un livello che è differente. Allora, il punto è fare un'operazione di equilibrio, di equità tra i cittadini della città metropolitana nel suo insieme e i cittadini che abitano nella città di Milano. Se noi facciamo quest'operazione e realizziamo quelle condizioni per cui uno sceglie di usare il trasporto pubblico, perché è conveniente, è affidabile, questo è fondamentale, perché se io aspetto il treno e il treno delle 8 non arriva stabilmente, è chiaro che non è più affidabile, ed è efficiente, cioè riparte alle 8, arriva alle 8 un quarto, cambia con un altro treno. Questa è la scommessa, che non è una scommessa di poco conto, perché vuol dire diventare metropoli europea, cioè diventare come Parigi, come Berlino, come Londra, come Barcellona, questa è la nostra scommessa. Il trasporto pubblico è andare a piedi. Beh, mica tanto, perché se vieni da Wimbledon e vai a Londra, però in una dimensione, diciamo, se vieni da casa mia o da casa tua in centro a Milano, ci buttiamo. In bicicletta va bene, però secondo me il primo punto è cercare di sviluppare un trasporto pubblico locale che in una prima fase è molto costoso, ma che produce un vantaggio dal punto di vista ambientale e dal punto di vista della vita individuale, perché poi se io sto male, i costi sociali sono costi di tutti, quanto più aumenta il benessere, a parte il vantaggio individuale che è innegabile. Quindi sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale e anche economica, perché poi è un sistema che si autoalimenta e che crea il nuovo, la nuova Milano che abbiamo visto. Per, c'è un attimo di scetticismo. Nel senso che, no, io stavo pensando che c'è un livello di restituzione sociale che bisogna fare, bisogna pensare che dobbiamo farlo tutti. Noi abbiamo costruito insieme una cosa che si chiama Plus Community, che è una struttura fatta da pubblico e privato, in cui ci stanno tutti quelli che ci vogliono stare, basta chiedere, uno ci sta. E ha come requisito due cose. Deve fare qualche cosa che favorisca l'innalzamento delle competenze della sensibilità sui temi ambientali alle nostre amministrazioni e ai cittadini. Secondo, deve essere gratuito. Perché ritornare a una gratuità è un controtendenza, ma è anche un livello in cui le aziende che consumano il nostro territorio, perché è vero che portano ricchezza, però è anche vero che un sistema di cave è un sistema fortemente impattante, devono restituire qualcosa, e non è solo in termini economici, devono restituire in cultura, capacità e professionalità. Per me. Allora, e con la Plus Community, con la cultura e la professionalità nuova, anzi, dicono gli angosassoni, l'empowerment, il sentirsi responsabili di ogni cittadino che questo tipo di gestione di una città metropolitana può creare e crea, perché è dall'Unione, che vi ringrazio della vostra presenza qui e vi chiedo, prima di lasciarci, di ripetere i vostri nomi e cognomi, perché io ho dato dei nomi, dando per scontati i ruoli, con i ruoli. Quindi partiamo. Io sono Maria Cristina Pinoschi e sono il direttore dell'area e ambiente della città metropolitana di Milano. Gloria. Gloria Zavatta, amministratore unico dell'Agenzia per la mobilità, l'ambiente e il territorio del Comune di Milano. Lei è la vice sindaca. Io sono Arianna Censi e sono vice sindaca della città metropolitana di Milano. Grazie per la vostra presenza. Grazie a lei. Grazie tante. Grazie. 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 Grazie a tutti.